Grande attesa a Campli domenica 3 dicembre per la prima edizione del Mercatino di Natale e il Borgo Incantato di Babbo Natale. Una manifestazione che include grandi e piccini, con visite guidate del borgo alla Necropoli di Campovalano e con l'ingresso gratuito al Museo Archeologico. A chiudere la manifestazione sarà il concerto della Corale Verdi presso l'Auditorium Santa Maria degli Angeli. Il Mercatino è un modo per rivederizzare il corso di Campli, si terrà insieme al mercato domenicale, ci saranno la presenza di oltre 30 bancarelle che si troveranno sul territorio per il corso, ma la cosa che noi teniamo di più, che vogliamo sponsorizzare, è il fatto dell'unione oltre al Mercatino delle famiglie con i bambini, perché abbiamo organizzato un progetto all'interno del circolo scolastico camplese dove i ragazzi andranno a realizzare dei manufatti artistici relativi al Natale e verranno a presentare la mattina in piazza Vittorio Emanuele. Una manifestazione che si inserisce in un più ampio cartellone natalizio, partenza domenica con l'evento organizzato dall'associazione Campli Domani e a cura del Comune. La notizia principale della giornata è anche, essendo la prima domenica del mese, approfittiamo ovviamente per la gratuità del Museo Nazionale e ovviamente le tantissime visite guidate al centro di Campli, sempre con il nostro ufficio turistico che ringraziamo, la necropoli di Campovalano con la possibilità di essere visitata con gli orari che abbiamo esposto e poi naturalmente un bellissimo concerto natalizio che si terrà alle 18 con il gruppo Verdi che conosciamo tutti benissimo che non sarà la fine della giornata perché, ripeto, dalle 9 di mattina alle 21 di sera Campli sarà animato da tutte queste bellissime cose.